Ciao papà. Ciao Elena. Non avevi chiuso con i cavalli? Oh sì, ma vedi, il mio rapporto con i cavalli è diventato puramente accademico. Adesso rileggo con una specie di cinico distacco. Quanto? Venti. E purtroppo avevi promesso di risaldare entro lunedì. Papà, dove credi che li trovi, i 20 milioni entro lunedì? Sono isolato. Si vede che nemmeno come padre sono mai riuscito a vincere un derby. Invece di lunedì non si potrebbe pagare tra due settimane. Vedi, io perdo da talmente tanti anni che ormai i bookmaker dovrebbero considerare i miei debiti come una specie di pensione e di anzianità. Ed eri saputo che le pensioni, beh, non arrivano mai puntuali. Uè, Mario! Ah, Vittorio! Quella, ti vedo bene. Quest'estate è Santa Margherita. Dal primo agosto presente. Mi hai dato una bella notizia. Ciao, caro. Ciao. È un vecchio coglione. E per il resto? Come ti vanno le cose? Oh, niente male, niente male. Sai, mi difendo come un leone. Una sera di queste ti voglio presentare una mia nuova amica. Si chiama Olinca. Una polacca. Sei incredibile. E sai, sul congenere di galoppo tuo padre è ancora un puro sangue. D'accordo, ti chiamo quando ho trovato i soldi. A proposito di soldi, non avresti qualcosa da prestarmi. Nella fritta sono uscito senza contanti. Ciao, papà. Ciao. Piero, due mimosa per il mio amico Vittorio e per me. Ah, e voglio vedere la schiuma a bordo del bicchiere, eh? Naturalmente offro io.